Il lavoro con le scuole è forse il lavoro più approfondito, più antico, più anche storicizzato che abbiamo avuto modo di sviluppare in questi decenni. Per metodo noi lavoriamo tantissimo con i docenti, con la formazione dei docenti per poi arrivare all'utente finale, bambino, scolaresca, ma anche studente delle medie o delle superiori. Diciamo che l'arte moderna, parlando dei primi anni, ma anche la metà del Novecento, è quasi fuori da tutti i programmi scolastici, ci arrivano a malapena in quinta superiore, anche al liceo. Quindi diciamo che parlare di arte moderna alle scuole, a nostro avviso, per quella che è la nostra esperienza, richiede comunque un'intermediazione del docente. Docente che è la persona proposta all'educazione, alla didattica, che conosce la propria classe, che sa che tipo di lavoro sta facendo a scuola con loro, sa le dinamiche le criticità e che si avvicina al museo. Il lavoro che facciamo con i docenti, che non sono tutti di discipline artistiche, anzi alle elementari, un insegnante che fa italiano e storia può anche fare la disciplina artistica, ma può non avere nessuna formazione specifica. Quindi il lavoro che facciamo con i docenti è, diciamo, di alfabetizzazione, perché l'arte, soprattutto l'arte moderna, è un linguaggio non verbale, però funziona con le dinamiche di fatto del linguaggio, quindi di una lingua della quale se non si hanno i rudimenti dell'alfabeto, si fa comunque fatica ad accedere e a comprenderne i contenuti. Quindi una cosa sulla quale lavoriamo molto con gli adulti è cercare un pochino di sistematizzare, cioè andare anche al centro di quello che è la ricerca, che le avanguardie storiche hanno portato avanti durante il novecento. Ricerche molto specifiche, spesso veramente al limite della scientificità, quindi con tantissimi riferimenti all'ottica, alla visione, appunto a tutti i manifesti. Con gli adulti lavoriamo su un fronte di apprezzamento, ma mirato a una prima comprensione. Perché? Perché l'adulto davanti a opere di arte moderna, io ne ho in mente soprattutto alcuni degli artisti che abbiamo in collezione, forse più rappresentativi, sono Mondrian, Steve Mondrian, del quale abbiamo diverse opere, o Jackson Pollock. L'adulto ti guarda e l'adulto che non ha quell'alfabetizzazione ti dice, beh, questo lo saprei fare anch'io. È proprio le linee bianche e nero, le griglie ortogonali di Mondrian, il bianco e nero, i colori primari, piuttosto che lo sgocciolamento di Pollock, sollevano questioni rispetto al metodo, rispetto all'azione che sembra effimera. Per questo l'adulto ha bisogno di strumenti in più, perché parte già molto sovrastrutturato, anche con una tradizione visiva che è quella della storia dell'arte italiana. Quindi anche con, diciamo, altri grandi maestri, se vogliamo parlare di pittori o artisti, gli italiani hanno un po' questo retaggio della cultura classica e quindi fanno molta fatica ad avvicinarsi all'arte moderna. I bambini, per nostra fortuna, vivono nel loro tempo. I bambini colgono immediatamente il fatto che gran parte dell'arte moderna è molto più vicina a noi. Il tema del movimento, per farti un esempio molto banale, che è trattato in gran parte dell'avanguardia, quindi il turismo, il futurismo, anche appunto Jackson Pollock che balla attorno alla tela, sulla quale sgocciola di fatto delle tracce della sua danza attorno alla tela. È qualcosa che al bambino affascina, perché è dinamico, perché è vitale, perché è forte, perché è, diciamo, immediato, ma non in senso semplicistico. È comprensibile, è vitale, è qualcosa che per loro è vicino, è comprensibile, è figo, ti direi. Cioè, è qualcosa che loro dicono, wow, questo ha inventato questo modo incredibile, nuovissimo, di disegnare, di rappresentare. Sono semplicemente meno sovrastrutturati. Quindi spesso il lavoro che facciamo con gli insegnanti è anche rassicurarli che i bambini hanno tutti gli strumenti per comprendere anche opere complesse. Ovvio, alcuni artisti non riesci a trattare nel dettaglio tutta la poetica e tutta l'arte, tutti i principi artistici che li hanno condotti lì. Con i bambini della scuola materna non svisceri il manifesto del cubismo, però vai al punto di quello che loro riescono a cogliere e che colgono benissimo, senza dubbi. In più, una cosa che è forte nell'arte moderna è la possibilità di far parlare gli artisti. Spesso gli artisti spiegano se stessi, ripeto, nei manifesti, ma non solo, nelle lettere, nelle loro autobiografie. Nella stessa biografia di Peggy Guglans parla della personalità degli artisti, della sua conoscenza con loro. Fare parlare un artista che di fatto ti spiega perché decide di sperimentare in un modo piuttosto che in un altro è la parola definitiva e la spiegazione ultima al perché alcuni di loro intraprendono alcune strade. E per i bambini questo è, diciamo, appunto definitivo. Cioè, è una spiegazione, è un assunto. Ecco, sono meno, i bambini sono meno, ho già detto, sovrastrutturati, ma sono anche più fiduciosi. Mettono meno in discussione, diciamo, anche la parola degli artisti. Il nostro programma di tirocinio, che poi in inglese si chiama programma di internship, nasce con il museo. Cioè, nasce nel 1980, quindi anche il programma di tirocinio celebra 40 anni quest'anno. Quindi non è solo uno dei più ambiti, penso a livello internazionale, è anche uno forse dei primissimi. Cioè, in Italia si è iniziato a parlare di tirocinio, di stage, forse una ventina di anni fa, attraverso l'università, quando si sono attrezzati di uffici stage, eccetera. 40 anni fa il museo si dotasse di questa possibilità di coinvolgere i giovani. Era sicuramente anche questo un po' un'avanguardia, se vogliamo, rispetto a un certo modo, di guardare anche a delle risorse umane. Il museo è molto cresciuto in questi 40 anni e anche il programma di tirocinio, che ad oggi è arrivato a circa 5.000 alamni del programma. Quindi stiamo parlando che dal 1980 a oggi sono passate circa 5.000 persone. Ci sarebbero tantissimi aneddoti. Il programma di internship, il programma di tirocinio, è la linfa vitale del museo. Io quando parlo di risorse umane, di un nuovo modo di guardare anche il coinvolgimento dei giovani per il museo, penso e mi passano davanti innumerevoli esempi di giornate tipo, di aneddoti, di situazioni varie. Anche chi ci conosce più da vicino, parlo di colleghi di altre istituzioni museali o di sostenitori, soci del museo, riconoscono in cui il programma è proprio il nostro, se vogliamo, marchio di fabbrica. La giornata tipo è piuttosto da un lato curiosa variegata e dall'altro scandita. Loro arrivano generalmente alle 9 e mezza, a 3 e 10, e ci sono quelle che noi chiamiamo morning positions, che sono tutta una serie di posizioni che i tirocinanti assumono per prepararsi all'apertura. Quindi c'è chi semplicemente ripassa per una presentazione, un talk, una visita che deve fare magari durante la giornata, chi, e questo è uno degli aneddoti forse più amati, chi toglie i pigiami, che è un'altra cosa che penso che abbiamo solo noi in museo, ovvero i pigiami sono delle copertine, dei pigiamini, che indossano le opere su carta. I lavori che sono realizzati non su tela ma su carta hanno delle coperture davanti al plexiglas per evitare che nelle prime ore del giorno, quando il museo è chiuso al pubblico, anche il giorno di chiusura, vengano colpiti da raggi del sole diretto. Quindi vengono messe queste coperte, i nifughe, sopra, che noi chiamiamo pigiami. Gli stagisti li mettono la sera e li tolgono la mattina e c'è veramente un rito piuttosto carino. Ogni pigiama riporta il disegno dell'opera che c'è sotto, il titolo, quindi sono proprio i loro pigiami personali. E loro, tutte le mattine, avviene questa fase di apertura, chi deve stare, chi dà una mano alla biglietteria o alla zona audio guida e si recca in biglietteria, chi dà la mano negli uffici si recca negli uffici e di volta in volta, insomma, assumono le loro morning positions. Dopodiché l'apertura del museo è dalle 10 alle 18. Durante queste otto ore, loro ovviamente hanno diverse pause, una pausa pranzo, pause varie, ma di fatto rivestono nell'arco della giornata ruoli e incarichi diversi in base a una rotazione oraria o giornaliera o settimanale. Quindi diciamo che ogni giorno c'è quella che noi chiamiamo schedule, che è fissa fuori dalla student room, che indica a ciascuno di loro che cosa farà nell'arco della giornata. molto variegata, ma anche piuttosto fissa, cioè nel senso che funziona come una macchina per la quale ciascuno deve svolgere un ruolo ed è atteso o di supporto di volta in volta a un ufficio piuttosto che a un altro, a seconda dello svolgimento della giornata. Per farti un esempio, domenica abbiamo i laboratori sui bambini, quindi ci saranno due, tre educatori, ci sarà quello che conduce l'attività, che solitamente o è madrelingua italiano o fluent in italiano, e ci saranno due o tre ragazze che gli danno una mano di supporto, anche semplicemente a aiutare i bambini, tenere il gruppo unito, ritagliare, aiutare più piccoli, aiutare quelli di lingua straniera, perché i nostri laboratori si possono tenere in tutte le lingue, quindi se c'è qualche bambino, francese, tedesco, madrelingua inglese, lavoratore in italiano, ci sarà un educatore di fianco, uno dei nostri stagisti, che traduce, quindi facilita la partecipazione anche al laboratorio da parte di stessa. Quindi, ecco, per farti un esempio, spesso, una volta al mese abbiamo i laboratori per i non vedenti, si tengono di sabato, quindi abbiamo ovviamente un'esperta di accessibilità, che lavora con uno scultore non vedente, che svolge l'attività con il pubblico non vedente, però i ragazzi partecipano, assistono, vanno una mano, ma anche banalmente facilitando l'apertura e la chiusura delle porte, facilitando il lavoro degli operatori, ma assistendo un'attività dal vivo alla quale possono partecipare.